Dopo qualche settimana siamo tornati a Castiglione Messerremondo per verificare i lavori di ripavimentazione della piazza principale. Possiamo notare con piacere, Sindaco, che i lavori sono praticamente ultimati? Sì, sono praticamente ultimati, mancano alcuni dettagli che nelle prossime settimane saranno appunto conclusi e così potremo inaugurare ufficialmente la piazza ristrutturata completamente. È stata appunto rifatta tutta la ripavimentazione, che cos'è che manca nel dettaglio? Sì, mancano alcune rue da appunto andare a ripavimentare. Un ultimo pezzo che abbiamo lasciato per far sì che il 7 agosto, quando abbiamo avuto la festa padronale, potesse essere fruibile e quindi la processione è potuta passare qui in piazza. Voi avete in programma anche una vera e propria inaugurazione? Sì, penso a fine mese di fare una inaugurazione ufficiale. Oltre all'evento del 7 agosto sono stati tenuti altri eventi qui? Voi comunque avete in programma di sfruttare questa piazza per gli eventi dei mesi a venire? Sì, sicuramente avremo degli eventi ad hoc per sfruttare di questa piazza. L'altra sera abbiamo fatto una serata dedicata ai bambini, solo ai più piccoli. Tutta la piazza è stata riempita di giochi e abbiamo avuto tantissimi bambini che sono venuti appunto a giocare e divertirsi. Questa è la piazza principale del comune di Castiglione Messerremondo, quindi possiamo dire che rappresenta al momento un bel biglietto da visita. Sì, è la piazza principale ed era una parte del paese che mancava appunto di essere riqualificata, è stata riqualificata e appunto come dicevi tu è un bel biglietto da visita perché è uno dei primi scorci che si vedono quando si arriva in paese. Grazie a tutti.